Nel 2001 inizia con il diavolo rosso in mezzo all'Unione d'Italia, mentre spaventisce il pubblico dei giorni nel 2008 con un emozionante sortileggio. In occasione di questo carnevale universale potete ammirare fuori concorso il progetto che aveva immaginato ed iniziato a costruire dal titolo l'Orlando Figuoso, realizzato da Gettine di Lavoro e dagli artisti del carnevale di Venezia. Un grande applauso nella piazza Martini per il franzo con Figuoso.